Il presidente russo Vladimir Putin non terminerà la sua invasione dell'Ucraina con la campagna del Donbass. Lo dice la direttrice dell'intelligence americana Avril Haines. Crede che, continuando la guerra, Putin pensi di poter spezzare l'attuale compattezza occidentale contro di lui. Valutiamo che il presidente Putin si stia preparando per un conflitto prolungato in Ucraina, durante il quale intende ancora raggiungere obiettivi oltre il Donbass. Valutiamo che gli obiettivi strategici di Putin non sono probabilmente cambiati, suggerendo che la decisione di fine marzo di rifocalizzare le forze russe sul Donbass è solo uno spostamento temporaneo per riconquistare l'iniziativa dopo il fallimento dell'esercito russo di catturare Kiev. Missione degli Stati Uniti per cementare l'unità occidentale. Il primo ministro italiano Mario Draghi è il primo leader europeo a visitare la Casa Bianca dallo scoppio della guerra a febbraio. Draghi ha ammesso che la guerra porterà un cambiamento drastico nella vita in Europa. A Donetsk, vicino alla linea del fronte, all'opera un'unità ucraina di bonifica delle bombe. Da quando sono iniziati i combattimenti hanno avuto a che fare con tutti i tipi di ordigni. Nel suo discorso serale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso omaggio al primo presidente dell'Ucraina indipendente dal 1991, Leonid Kravchuk, scomparso dopo una lunga malattia. Leonid Kravchuk sapeva cos'era la libertà e quanto costa. Con tutto il suo cuore voleva la pace per l'Ucraina. Sono sicuro che lo accontenteremo. Otterremo la nostra vittoria e la nostra pace. Eterno onore e memoria al primo presidente dell'Ucraina indipendente. La Bielorussia ha annunciato che nei prossimi giorni dispiegherà truppe per operazioni speciali in tre aree vicino al suo confine meridionale con l'Ucraina e risposta a ciò che il governo del presidente bielorusso Lukashenko definisce una crescente minaccia da parte degli Stati Uniti della Nato.